La lista della Francia Qui ho trovato una lista della Francia più importante del mondo e sono stato molto contento di vedere che il libro di Giulio era stato incluso qui c'è la lista e... Do you have a picture? E lì? E la cartina? E... 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 Can you see me? Ok Bravo Credo che ormai molte persone conoscono la storia del rito di Giulio che fu scoperto nel 1961 dal famoso sommozzatore Eglise Reg Valentine il quale alleva a quel tempo una scuola di sud di inversione in questa isola Cesare? Yeah? Did you read? Ok Reg trovò il rito ad una profondità di cinquanta metri in profondo alla Sacchi Pinocchio la Sacchi Pinocchio la Sacchi Pinocchio è quella quella macchia di acqua azzurro chiaro che si vede venti metri dalla riva davanti dal papeggio giù dalla colina verso il papeggio no? Reg dice subito che il rito fosse importante perché tutto quello che vive era diverso dal solito Reg provò a coinvolgere alcuni archeologi alla sua scoperta ma in quel periodo gli archeologi e i supportatori erano molto pochi e nessuno di queste mostrò molto un interesse prima di lasciare l'isola dal 1962 Reg ricoprì con della sabbia quello che si riusciva a vedere dal rito sul mondale marino adesso adesso andiamo avanti di venti anni e arriviamo al 1981 quando mia moglie mia moglie Giovanna io notavo per caso il manico di un'altra Etrusca a casa di un sommozzatore che era stato uno studente di Reg nel 61 questo ci misi in contatto con Reg e fu nell'incontro che seguì quando lui mi mostro alcune cambi di micro vecchie foto di ceramica proveniente dal rito che mi resti conto che per caso mi ero imbattuto in qualcosa che poteva avere una straordinaria importanza archeologica ok Cesare c'è un foto una vecchia foto di Reg io allora ero un studente di Oxford e quindi non avevo alcuna influenza o credibilità ma grazie alla foto di Reg riuscì a convincere i miei superiori dell'importanza del diritto in particolare il famoso professor Sir John Bowdman l'università diede il proprio supporto al progetto e lo stesso fece in seguito la sovrintendenza per i beni archeologici della Toscana a questo punto devo fermarmi per rendere omaggio a due eccezionali archeologi italiani senza i quali lavori per riportare alla luce il diritto di Giglio non sarebbero mai avvenuti il primo è il professor Francesco Nicosia ormai deceduto che era in quali anni capo della sovrintendenza per i beni archeologici in Florence in Firenze e la seconda è la dottoressa Paola Rendini che era ispettore archeologica della terrestre Virginia ma ok c'è il professor Paola Paola è la seconda dalla sinistra Paola è naturalmente conosciuta da tutti qui di Giglio fatto la sua professionalità come archeologa è anche una persona assolutamente squisita non solo fu la mia guida e la mia insegnante durante le citate ma ogni volta che ci fu un problema cosa che avevo spesso sempre fu presente per aiutarci infatti si potrebbe dire che grazie a Paola e il rito di Giglio che io ho avuto una carriera meravigliosa carriera in archeologia marittima ok trovare il rito fu un problema ma alla fine riuscivo a scoprirlo usando un metal detector ok that's Joanna si trovava proprio in volto alla scoliera dove finisce la roccia e comincia la sabbia durante le successive quattro istanti ritrovamo molti oggetti compresse una parte della nave di particolare interesse c'erano diversi lignotti di piombo in rame ma anche delle amfre etrusche e greche usate per contenere olio pecce olive e forse vino next one è un lignotti di rame no? ok i miei pezzi preferiti però erano i vassi dipinti per esempio prossimo questo qui che mostra due soldati che lottano viene da corinto in grecia si capisce meglio la prossima in questo disegno ok la prossima Cesare con due cinghiale viene dall'altruria ok se andiamo un po' più un po' più vicino la prossima e credo che si vedi bene no? ok ma la cosa che più di tutte ha fatto diventare il relito del regilio famoso e un elmo in particolare purtroppo la storia di questo elmo è abbastanza spiacevole anche se io credo che un giorno ci sarà un lieto fine l'elmo fu ritrovato nel 1961 da un sommontatore tedesco che era con Regg nella sua barca questo è come l'elmo si presentava nel momento in cui venne ritrovato ok e questo la prossima è come è oggi è un elmo di una perfezione unica non solo per la sua forma e proporzioni elegante ma anche per l'eccellenza tecnica con la quale venne costruito era stato battuto infatti utilizzando una sola lamina di brozzo inoltre vorrei anche vedere la qualità della sua decorazione guardate questi due serpenti sugli occhi le loro bocchi sono aperte si possono vedere i denti lunghi e anche le lingue i forcuti e sulle guancia potete vedere le splendide incisioni di due cigliari la parte spiacevole della storia è che l'uomo che ritrovò quest'elmo transgrado fece ciò che qualsiasi sopportatore avrebbe fatto in quegli anni cioè che se lo pressi se lo riportò a casa in Germania ovviamente io ero molto ansioso di ritrovare quest'elmo e alla fine mia moglie ed io riuscivano a rinciacciare Franz ad albergo lui era consapevole del dolore dell'elmo e per questo lo buttò diva in una banca seguì una corrispondenza per qualche tempo a conclusione della quale Franz accettò che Johanna e io potessimo visionarlo fare delle foto e ricalcare le decorazioni ok questo succedeva 33 anni fa e ormai Franz è morto e l'elmo è scompasso come potete immaginare sia io che il sindaco Ortelli siamo molto ansiosi di ritrovarlo quattro anni fa il sindaco Ortelli organizzò un speciale convegno proprio in quest'aula nella speranza che potesse portare al suo giocamento sfortunatamente questo non accade vi mostro una foto di quel convegno ok vorrei chiamare la vostra attenzione sulla splendida coppia e bronzo dell'elmo fatto dal maestro Mario Brandaglia pittore e scultore bene conosciuto e nato qui a Giglio e anche qui vorrei fermare un momento per esprimere la mia la mia gratitudine al mio amico Mario che è rimasto sempre una 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 grande sostenitore degli scappi thank you Mario e ho già detto prima io sono sicuro che questa storia avrà un netto fine l'ambo di Giglio è così famoso che non potrà rimanere terso o nascosto per sempre e quando questo riaparirà credo che ci siano ottime probabilità che che tornerà in Italia e chi lo sa forse unirà nel museo talpiano di Socca le demanere a te grazie che sia interessante raccontare e descrivere come vennero rinvenuti ho detto prima che la nave trasportava Amphrey che è che polo e il labbro di un ampere trusco questo roba nera che vedete sulla lago è la pece su fondo del mare e la pece a causa della natura rischiosa si distruì e con il tempo ricoprì alcune parti del sito questo era difficile i lavori di scavo ma ci rendevo subito conto che questa pece era invece una benedizione perché aveva salvato oggetti che è normale circostanze sarebbero maciti o sarebbero stati erosi o deneggiati di versiti marini ok per esempio questo coperchio finalmente scoppito è sopravvissuto solo perché ricoperto da pece questo è un legge ok ok la prossima Gesù e lo stesso si può dire di questa tabuletta per la scrittura la prossima vorrei vorrei precisare qui che sto parlando di oggetti in legno particolarmente sopravvivente fu il ritrovamento di questo set di calibri next what are the calibers? un pezzo di tecnologia avanzata che nessuno sapeva esistesse già da 600 avanti Cristo e naturalmente è stata proprio la pece a preservare i flauti ok la pece la pece non solo ricoprì i flauti ma finì dentro i fori e in qualche caso riempì completamente il loro intorno la prossima pece in tutto in tutto le scave riportarono a luce un flauto intatto e 17 pezzi rotti erano tutti fatti in legno di bosso e a parte uno che era in avorio next one la prossima da una selezione di pezzi riuscivo a mettere insieme un flauto che aveva cinque fori in alto ed uno in basso next one last one secondo i nostri studi la nave trasportava un minimo di 9 o 10 flauti questi erano di varie lunghezze diametri e posizioni di cuore e la nostra conclusione fu che proprio a causa di queste differenze non si trattava di merce ma molto più probabilmente appartenevano ad uno dei passeggeri o a un membro dell'equipaggio se fossero stati parte delle merce trasportate ci saremmo aspettati una maggiore uniformità ok sono arrivato alla conclusione mi sono sempre chiesto quale fosse il suo di questi flauti come venissero sognati e che ruolo avessero nella società greco e giusto adesso grazie al lavoro di Simona e Stefano sto per scoprirlo infine vorrei ringraziare il sindaco del non solo per aver organizzato questa confidenza ma anche per il modo in cui ha promosso personalmente le elezioni relative all'elitto dell'egilio che come abbiamo visto è un reperto di importanza straordinaria non solo per questa isola ma per tutta Europa grazie grazie